Ladies and gentlemen, we would like to draw your attention to some of the safety equipment and procedures on board this aircraft. Osservate come allacciare e sbacciare la cintura di sicurezza. Please pay attention on how to fasten and release your seatbelts. Questo aeromobile è dotato di 6 uscite di emergenza, ubicate nella zona anteriore, centrale e posteriore. Vi invitiamo a localizzare quelle più vicine a voi. In caso di evacuazione di emergenza, un sentiero luminoso faciliterà il raggiungimento delle uscite. Lasciate a bordo ogni effetto personale e allontanatevi dall'aeromobile. This aircraft is equipped with 6 emergency exits, located in the forward, mid and rear zone. Please note the one nearest to your seat. In case of emergency evacuation, an illuminated escape car will help you to reach the exits. And all your belongings behind and move away from the aircraft. In caso di depressurizzazione, l'alloggiamento che contiene le maschere per l'ossigeno si aprirà automaticamente. Prendete una maschera e attivatela tirando energicamente verso di voi. Portatela sul viso coprendo naso e bocca e respirate normalmente. Solo dopo averla indossata, aiutate coloro che hanno bisogno della vostra assistenza. La maschera funziona anche se il sacchetto non si gonfia. In case of loss of cabin pressure, an oxygen mask will automatically drop from the compartment above your seat. Pull the mask down firmly, place it over your nose and mouth and breathe normally. Put your own mask on before helping others. Il salvagente si trova nella tasca sotto la vostra poltrona. Dopo aver aperto il contenitore, indossate il salvagente come vi stanno mostrando gli assistenti di volo. Agganciate la cinghia sul davanti e tirate l'estremità in modo che aderisca bene. Gonfiate il salvagente solo immediatamente prima di abbandonare l'aereo, tirando le maniglie rosse. Se fosse necessario, soffiate nei tubi di gomma. Se utilizzate un finestrino di emergenza, gonfiate il salvagente solo all'esterno della cabina. Il salvagente è in un pocket under your seat. Open the container and put the jacket on as the cabin attendants are now demonstrating. Fasten the clip in front and pull the strap to adjust the jacket to your size. Inflate the jacket by pulling the red handles just before leaving the aircraft. If necessary, the air supply can be topped up by blowing into the rubber tubes. If you use a window of emergency exit, a life jacket should be inflated only outside the aircraft. For further information, please check the safety instruction card in the seat pocket in front of you. Thank you for your attention. For further information, we recommend you to take a look of the safety rules reported on the cartoncino, placed on the bag of the bag of the bag of the bag. Thank you for your attention. 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 Thank you for your attention.